Porta Aperta In strada che avevano bisogno di mettersi al riparo e i cittadini di Parigi hanno aperto le loro porte in un momento in cui sarebbe stato legittimo, comprensibile se le avessero chiuse e sprangate, se si fossero chiusi dentro le avessero sprangate, invece c'è chi ha scelto di aprire la propria porta, Porta Aperta, a chi aveva bisogno. Si tratta semplicemente di capire quali sono gli strumenti che funzionano, quali sono gli strumenti che non funzionano. La guerra è uno strumento che non ha funzionato. Chi oggi chiede altra guerra e altre bombe sarà prima o poi responsabile di altri morti, a Kabul, come a Baghdad, come a Parigi. Io penso che la risposta giusta sia porte aperte, sia tendere la mano, sia libertà, uguaglianza, fraternità. Grazie.